Ezio Rossi, 27 anni, sei l'unico giocatore di Torino che milita in una squadra torinese. Oltretutto sei cresciuto nel vivaio, sei nato a pochi passi dal Filadelfia. Chi meglio di te può dire che cosa significa per un calciatore nascere e crescere nella propria città e nella squadra a pochi passi da casa? All'inizio sicuramente è un sogno che si realizza, perché penso che da bambino tanti di Torino che abitano a queste parti o anche più lontano possono sognare di giocare con la maglia se uno è del Toro o della Lueco, con una delle due squadre. Qual è il segreto per arrivare in questa scuola? Per arrivare bisogna avere un minimo di qualità. Poi ci vanno tanta fortuna, io penso, e quando uno si accorge che la fortuna è della sua parte avere la volontà di non mollare mai e di cercare sempre giorno dopo giorno di migliorarsi e di fare sempre meglio. Per te qual è il segreto per cui il Torino è ancora uno dei migliori viva in Italia? Io penso che il Torino ha proprio un'ottima struttura a livello giovanile, dalla base fino a come seguono i giocatori giovani, agli allenatori e tutto quanto. C'è proprio tutta un'organizzazione, una struttura che permette appunto a questi piccoli campioncini di emergere, di far sempre bene, di continuare a rinnovare la nostra società. Grazie a tutti.